C'è quando parte, eh? Addio! Quando parte chi? Lui! Ah! Quando parte il copertone, noi vorremmo vedere anche la faccia dell'istruttore. Nel momento in cui... Vorremmo vedere di faccia, non di spalle. Che saluto con una mano. Occhio qua! Occhio qua! Occhio più di Atene! Sì sì, sei online. Ma poi c'è il copertone che gira in giro. Ok, sì. Vole! Che saluto con le palle! Visto? Volevo! Volevo! Volevo!